Credo che non rappresenta soltanto per la mia persona ma per il collegio dei docenti, per il consiglio di istituto ma soprattutto per la comunità tutta e per i giovani un grande punto di partenza, una grandissima soddisfazione. Il settore economico e tecnico sostanzialmente è al completo. Avevamo azienda finanza e marketing, abbiamo ottenuto le due articolazioni, sistemi informativi e azientali e anche il RIM e adesso abbiamo l'interizzo turistico. Sede naturale non poteva essere che Naro per le sue bellezze naturali, monumentali e artistiche. Naro ha un complesso catacompale, paleocristiano, straordinario. Una serie di convergenze hanno fatto sì che potessimo realizzare quello che il collegio dei docenti, guidato dal dirigente scolastico, dal professore Fontana, ha voluto sin dal marzo del 2012. Noi abbiamo deliberato proprio nel marzo del 2012, abbiamo chiesto l'indirizzo turistico unitamente alle altre articolazioni e finalmente oggi, ecco ed è motivo di grande soddisfazione, finalmente oggi abbiamo visto concretizzarsi questa nostra impostazione a cui abbiamo, dicevo, fortemente creduto. Cosa rappresenta tutto questo? E rappresenta una risposta al territorio, una risposta di qualità per una scuola di qualità che sicuramente contribuirà a formare i nostri giovani per essere immessi nel monto del lavoro. Cioè sostanzialmente noi stiamo cercando di contribuire a creare quella impiegabilità o quella occupabilità per i giovani e che il territorio richiede in maniera forte. Quale serie di convergenze? La presenza per esempio dell'assessore alla istruzione e alla formazione, Mariella Lobello. Mariella Lobello, vicepresidente della regione, ha creduto da sempre che cultura e formazione rappresentano il volano dello sviluppo economico, della ripresa economica di queste nostre zone. Bene, ha creduto e lo ha dimostrato.